Ladies and gentlemen, è un grande momento, questo momento, perché possiamo vedere e toccare con mano i pattern ufficiali per anni di questo grande evento, di questa grande competizione che è arrivata al suo ventunesima edizione del campionato mondiale della pizza. Signor Fausto, rappresentante e nonché l'uomo dei Maranoforni, grazie di essere con noi, due parole su questa manifestazione e poi non so se ha notato chi è la madrina. La madrina è una cosa importante, ma sono loro quelli che contano poi i film, per noi è una soddisfazione festeggiare anche il nostro ventesimo anno a Salcio Maggiore, mondiali della pizza, cosa si vuole di qui, Rossella Brescia. Questo non ci credo, Rossella forse è un po' che ho lepio, ovviamente abbiamo questa targa che ti verrà consegnata da Rossella e mi faccio andare a parte. Definitamente. Grazie a voi. È un ringraziamento per la presenza storica. Grazie, grazie veramente. Grazie a voi.